Benvenuti e bentornati a un nuovo video, io sono CinaBiondo, oggi per voi un mazzo Storm. Come Storm? Eh sì, c'è Dragon Storm, che è una delle mie carte preferite in assoluto del gioco! Non dello standard, non dell'historico, ma del gioco. Dovete sapere che io quando iniziai a giocare a sto gioco, vedevo questa lista che girava e si chiamava Dragon Storm, e io dicevo, boh, ma si basa con questa carta che costa 9, come cazzo funziona? E poi ho capito perché, semplicemente perché c'ha Storm come abilità. Questo è uno di quei deck che mi gasa un botto, e se volete la decklist è qua giù in descrizione, e vi ricordo che adesso fra poco ripartono gli eventi, e quindi supportate i vostri negozi locali. Che se è Multiverse of Games, di Cesano Moderno, pure meglio. Questo è un mazzo che mi gasa un sacco, se mi seguite su Twitter ho fatto la brew, proprio il giorno 1 ho fatto la brew, e secondo me è un mazzo che meno male funziona anche in Best of 1, secondo me funziona. Ha un po' di sfighe, se ci sai giocare contro ha un po' di sfighe, però tendenzialmente la gente non ci sa neanche giocare bene contro, e sottovaluta la meccanica Storm, che adesso vi vado a spiegare. Iniziamo dalla carta Dragon Storm, che dà il nome al mazzo. Allora, Dragon Storm è una carta che dice, a costo 9, quindi tantissimo, stregoneria addirittura, tra l'altro hanno lasciato pure l'art vecchia, bruttissima, perché non è HD per un cazzo, era un quadro. E se avete notato c'è anche l'autore in basso a sinistra dell'immagine. Mamma mia, con Scourge come set. E praticamente cerchiamo un drago, un permanente drago nel nostro grimorio, e lo mettiamo sul campo di battaglia. E poi sciaffliamo. Ma, c'ha l'abilità Storm, che dice che quando lanciamo questa magia, la possiamo copiare per ogni magia, altra magia, che è stata lanciata in questo turno. Contano pure le magie dell'avversario. Quindi, se vi dovessero fare counter su Dragon Storm, le abilità di Storm partirebbero comunque. Ed è una roba super sottovalutata, perché la gente... Non la gente, semplicemente non si sa contare bene. Il piano è... Facciamo Dual Strike, Fortellato. Perché con Fortell ci costeravo 1, a turno 2. Facciamo a turno 3, Valakut Awakening, ci rimischiamo la mano. E come nel Poker a 5 carte, ci rimischiamo la mano per vedere le carte che vogliamo. Facciamo a turno 4, a turno 5, facciamo Dual Strike, Fortellato, più Irene Krag Fit, che dà 7 mana, ma che se copiamo, quindi c'è da 14. e che dice... Possiamo lanciare solo una magia in più questo turno. Dopo questa possiamo lanciarne solo una. E andremo a lanciare Dragon Storm. E poi come vinciamo? Facciamo prima Terror on the Peaks. 5,4, costo 5. Che, vabbè, a parte il fatto che se la targhetti, con una magia, la persona deve pagare 3 vite adozionale, a parte quello che è già forte così. In più, dice che ogni volta che un'altra creatura entra sul campo di battaglia, Terror on the Peaks fa danno pari alla forza di quella creatura. Con la seconda copia di Dragon Storm andremo a prendere Latisse, Dragon Queen, che ha un 6,6, a costo 6, che dice che ogni volta che un altro drago entra sul campo di battaglia creerà un 5,5 drago token volante e che esso stesso prende più 1, più 0 fino alla fine del turno. La facciamo entrare sul campo di battaglia e nel mentre è in trigger l'abilità di Terror on the Peaks che spara i danni perché è entrato questo, possiamo potenziarla. Gli diamo due giri di potenziamento. fa 8 danni poi con l'ultimo Dragon Storm ci andremo a prendere un altro Terror on the Peaks farà triggerare lui e in più farà triggerare Latisse. Col drago che entra di Latisse triggererà due volte Terror on the Peaks perché sarà già entrato anche l'altro e faremo 15 danni in più per un totale di 23 danni. Se avete una combinazione migliore da fare per quando si storma a 3 ditemelo e probabilmente avrò sbagliato io. Però mi sembra ad incastro la migliore combinazione possibile. Allora, per facilitare la combo diciamoci abbiamo Opt per pescare che a mio avviso in un mazzo senza fetch è superiore a Brainstorm. Shimmer of Possibility che è la migliore carta per cercare carte nel mazzo. Fire Prophecy che è una rimozione che ci permette di rimischiarci nel mazzo magari un drago con uno o due draghi che ci siamo pescati per pescare un'altra carta. Valacuta Awakening fortissima ci rimischiamo x carte nel mazzo e ne peschiamo x più una e Baral Baral a mio avviso all'inizio un po' trollino però secondo me Best of One dal suo meglio perché secondo me le persone non ci sanno benissimo giocare contro e vi strappate tantissime partite perché vi mandano basso voi fate Dragon Storm e fate questi tre draghi 23 danni in testa e vincete. ma anche semplicemente farlo anche solo Rito Dragon Storm per fare due draghi non è brutto avete fatto a turno 5 il doppio drago che poi tra l'altro il secondo che entra con l'effetto di Terror of the Pixel spacca un pezzo quindi ci sta e e niente andiamo andiamo a giocare è un bel mazzo un bel combo a me piacciono questi combo qua a me piace la vita Storm e poi farò anche qualche video su Modern Horizon sulle fetch eccetera perché mi sto accordando con Edo Rosadini del giocatore medio quindi ragazzi ci vediamo beh 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 ho già due pezzi della combo in mano mi spiace avere il draghetto però stiamo con il rosso così pensa che siamo aggro e invece l'aggro è lui plot twist beh io questo lo sospendo quello lì va bene dai mi dovesse fare un danno solo va bene va bene easy easy danno una carezza ha visto la terra giustamente su Oscar Mage allora faccio terra tappata tolgo via e te lo tolgo subito su Oscar mi sa che voglio togliere il drago eccolo lì fra due turni si scomba dobbiamo resistere due turni non dobbiamo morire chiappe strette si sta a chiappe strette adesso mi fai shock mi giri per 4 eh so danni so danni meno male che io ho spaccato sto Oscar Mage non so se però se no tu non mi può chiudere io spero che no sarà tappata pass ti giuro che ti chiudo io se non mi chiedi tu chiappe strette aiaiai boom hat boom 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 ancora 8 e botti da 3 non ci sono in sto formato eh fai il bravo aah boom dual strike tengo in full control perchè ho sempre paura che mi scappi la fase eccetera grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.